entriamo dunque nel dettaglio di questa magica anteprima per questa grande stilista talentuosa giovane gattinoni partner di questa iniziativa ha deciso di sposare questo esperimento di presentazione che dovrà però attecchire a roma come si fa ad aiutare una giovane talentuosa con la creatività con la forza della bellezza degli abiti che roxana crea aiutata dai gioielli di suo marito che sono splendidi e con l'attesa di un meraviglioso bimbo che rossana porta in grembo quindi mi sembra che tutte le cose bene augurali ci sono roxana piano piano farà la sua clientela si farà conoscere questo questo evento di anita lo mastro questa sera è un po l'avvio in un hotel meraviglioso quindi perché non farcela tutto sotto i migliori auspici stefano dominella certo dire questo però roxana al momento ha un suo punto di appoggio in svizzera cosa possiamo dire ai giovani stilisti perché vengano e rimangano in italia a spendere il loro talento e la loro creatività roxana è giovane molti dei giovani lo sappiamo intraprendono brillanti carriere non in italia ma all'estero noi lo dobbiamo dire il suo parere è autorevole e quindi lo diciamo ai giovani che ci seguono questa è un po la storia della vita ed è un po la storia dei talenti italiani da sempre è vero molti giovani creativi che hanno studiato nelle nostre scuole o hanno famosso i primi passi negli atelier italiani poi vanno all'estero io non sono del tutto contrario a questo io insegno anche in un in un'università che è la sapienza ed insegno moda e vedo che poi con il tempo dopo l'esperienza a londra a parigi eccetera tornano tutti a casa di mamma allora l'importante è farli tornare quindi diciamo che questo made in italy è una mamma alla quale non si può rinunciare quindi ben venga che facciano delle esperienze fuori e che portino il know out di altre nazioni di altre mode di altre ricerche da noi perché poi il vero successo conclamato deve partire dal made in italy che è uno dei beni insieme alla cultura la gastronomia più grandi e straordinari che abbiamo ha detto bene stefano dominella le 5 a l'abito l'auto l'arte l'agroalimentare ecco sono tanti gli elementi adesso noi siamo qui per fare gli auguri di natale ai nostri utenti quindi gli auguri speciali di stefano dominella beh gli auguri di felicità e buona fortuna io però altri ma ma ma